L'anno scorso e tutta la mia vita ho stato giocando punta centrale, però pure ho fatto esterno in Spagna, lo posso fare, non c'è nessun problema, però pure dove mi sento più forte è nel centro, perché sono veloce e qualcuna palla che arriva per il centro posso fare gol. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!